Ehi, come dite voi? Mi hanno messo gli occhi addosso. Ah, non ci credete a queste cose? Eppure io vi dico che a me gli occhi addosso mi hanno cambiato la vita. Se no, scusate, come si spiega quello che mi è successo? Vuoi rubarmi l'anima e tempo d'amore che ci fa volare sopra il mondo? Che ci dice adesso è il momento di dare tempo, tempo d'amore che ci fa sentire quello che non hai sentito mai che ci fa vedere quel che non hai visto mai. Si, forever, fra il giorno e la notte è così, together, fra la vita e la morte le tue mani sul mio cuore la tua voce è dentro me vuoi rubarmi l'anima e tempo d'amore che ci fa volare sopra il mondo che ci dice adesso è il momento di dare tempo Ho mangiato troppo e stasera non ceno. Ma se non hai toccato niente. Come niente? Le farfalline all'uovo. Ho un poco di prodotto vegetale. Ma le farfalline all'uovo sono pesantucce. C'è sta l'uovo? Oh, mamma mia! Aiuto! Nina! Che succede? Nina! Chi è? Chi sei? Chi è? Ma come che sono, amore? Sono io! Amore, con questa parrucca non te l'avevo riconosciuto. Ma che c'è? Sei caduta? Sì, siete di qua. Che ti sei fatta male? Siete. La stai a rotelle. Addirittura? La devo buttare. Ah, quella delle... Siete, siete. Passato? Ma fammi un massaggino. E se non vuoi riparli, amore, sì. Ecco. Va bene? Passato, amore? 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 Ti piace o liscia? Amore, tu mi piaci riccia. Liscia, riccia. I capelli ricci sono belli. Non ti fissare. E vabbè, è una novità. C'ho la pancia gonfia. Ti sei mangiato la trip del signor Centocelle. E questo è il risultato. Attenzione. Metà se l'hai mangiata la bestia. Birillo. Birillo? Che le tantille? Ebbè, ma è vorace. E poi il signor Centocelle è romano. Teniamo il vicino romano, io non mi mangio la trippa. E come lo faccio, maggiore dei carabinieri con la pancia? E come lo fai, maggiore dei carabinieri con la pancia? Amore, io sono un uomo d'azione. Un uomo d'azione? Non scherzare. Sono in reparto catturante. E catturo pure a me. Amore, è tardi, non è il momento, capi? L'uomo la deve avere un poco di pancia. Richard Gere non te ne ha la pancia? Richard Gere? E io? Un cattivo Dallas? No, chi le J.R.? Ah, è vero, J.R.? Aspetta, non me lo direi che voglio indovinare. Dunque, Richard Gere... Medici in prima linea. Chi le I.R.? I.R.? Ma si chiamano tutti uguali? Tu sei più bello e tutto quanto. Ma tu mi vedi con gli occhi dell'amore? Chi sei tu? Un serpigone tuo. E dove sta il serpigone mio? No, non è il momento, amore. È il momento. No, devo andare. Sì, no, dove vai? Stai con me, resta qua. No, no, no. Sì, dolce, dolce. Amore, amore, scusami. Sì, dolce, dolce, dolce. Il dolce ne è salato. Capite? Devo andare. Capito? Sono praticamente in servizio. Mannaggia, vado a me. Brillo? Brillo, saluta il papà. Dove sei? Brillo? 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 Vieni qua. Salta. Vieni. Brillo? Vieni. Oh, tesoro. Ho fatto proprio bene a non darti la trippa. Maggiore, una telefonata sulla tua, eh? Poi mi devi mettere una firma. Sì, pronto? Sì. Non ho capito. Un incidente. È stata investita. Signor Maggiore, che è successo? Ma che è successo? È chiesto. Alla prima volta al video. Mia moglie desiderava mantenere l'anonimato. Non si preoccupi. Ah, e per favore, non voglio sapere a chi andranno. Gli occhi di Nina. Stia tranquillo. Eccomi qua, questo sono io. Questo con la band degli occhiali da sole. Bruno Carramone, dopo il trapianto. Questo a sinistra è Peppino, detta Batman. Quello a destra è Samuele, detta Sandocanna. Sono le mie guardie del corpo. Figurati. Io sono lettore oculare. Perché nell'occhio che il Marco Morris vede la vostra realtà. Perché nell'occhio dell'uomo, il Marco Morris vede l'uominio. E per esempio, nella donna, il Marco Morris vede l'uominio.